Ciao Astronomers! Come sai, Giotto Smart Flat Fill Generator è disponibile in diversi diametri per farlo perfettamente per molti telescopi. Ma come puoi scegliere il migliore uno basato sul tuo diametro del telescopio? Vediamoci! Quando devi registrare i file di calibrazione di flat frames, è importante avere una uniforme e brillante source di illuminazione, e Giotto propone tutto questo, insieme con un'integrazione di control elettronica con porto USB Type-C che ti permette facilmente di controllare da Google o un computer Windows standard, o connessione di Wi-Fi, per farlo usare con un iPad virtuale usando il tuo smartphone o il tablet. E quando lo imposti in fronte del tuo telescopio, è importante avere il Giotto per full illuminare il tuo obiettivo. E' per questo, se ti chiesti come scegliere la dimensione corretta Giotto per il tuo telescopio, l'importante è di scegliere un modello di Giotto che offre un diametro del panel illuminato che è più grande di un diametro del tuo telescopio esterno. Per esempio, guardate questo telescopio Smith-Cassegrain di 9.25. Il diametro del fronte del OTA è di 270 mm, quindi il modello di Giotto che vi suggeriamo è Giotto 285, da che viene con il panel illuminato di 285 mm. Se consideriamo questo rifrattore del 80 mm, da che misuriamo che il fronte del fronte è di 116 mm in diametro, potremmo usare il Giotto 120, che viene con il panel illuminato di 120 mm di diametro, e usando questa regola semplice, puoi scegliere il miglior generatore Giotto Smart Flat Fill per il tuo telescopio, ogni modello di diametro. Per altri contenuti che aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e il miglior generatore che aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale Grazie.